Allora, come ogni venerdì, diciamo, Trieste in diretta nella parte finale si trasforma in Star Bene in TV, il programma che è curato dall'agenda sanitaria universitaria integrata di Trieste. Questa sera sono nostri ospiti, a partire dalla mia sinistra, la dottoressa Mayla Misley, che è la direttrice infermieristica, diciamo così, dell'Auswitz, poi io non so mai se è giusto, è corretto, e la dottoressa Giorgia Toso, responsabile infermieristico del reparto Terza Medica, con le quali parliamo del corso di formazione, adesso in inglese è Nursing Friendly Management, che poi anche, dottoressa Misley, fa parte di quel progetto di cui noi abbiamo parlato parecchie volte, no? Assieme. Sì, parto da lontano, nel senso che l'Unione Europea raccomanda ai paesi componenti dell'Unione Europea, ma davvero da 20-30 anni, di rendere gli ambienti di lavoro amichevoli. Quel Friendly appunto sta per dire amichevoli, perché è dimostrato anche da ricerche sociologiche che l'ambiente amichevole fa lavorare molto meglio. Figuriamoci se questo aspetto si traduce in sanità, quindi, ecco, se è importante una fabbrica che produce prodotti, scarpe, borsette, tanto più... Una redazione giornalistica. Ecco, una redazione giornalistica. Tanto più lo è laddove noi pretendiamo di far salute, di guarire le persone, insomma. Quindi io avevo già fatto corsi di questo genere con il professor Vaccani della Sdabocconi a suo tempo nei servizi territoriali e ritenevo che fosse molto importante anche per le giovani responsabili infermieristiche, che sono tante, sono persone veramente splendide che reggono molto bene la complessità dell'azienda sanitaria, della parte soprattutto anche ospedaliera e ho pensato di riproporre quattro edizioni di un corso che consente di acquisire strumenti di gestione molto validi per assedare conflitti, per toccare quegli aspetti così anche della nostra personalità che possono essere di ostacolo e che con piccole tecniche si possono superare. No, allora chiedo subito alla dottoressa Toso, responsabile infermieristico, lei sarebbe la vecchia caposala? Diciamo di sé, è il vecchio modo di dire, non vecchia, è giovane, ma sì, diciamo che per capirci, sì. Capite già che qualcosa è cambiato, perché quando uno parla della caposala in genere pensa sempre a qualcosa di piuttosto... Sessuora. Incombrente. 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 Poi vi racconterò una barzelletta dopo alla fine, fuori onda. Fondamentalmente parte dal personale infermieristico questo tipo di ragionamento, nel senso è il personale infermieristico che è più a contatto con il paziente e, sottolineo anche, con i familiari del paziente, perché io credo che un conto è trattare col paziente, un conto è trattare con i familiari. Una grandissima parte del nostro lavoro quotidiano è trattare anche con la famiglia ed è assolutamente fondamentale per poter costruire un percorso assistenziale e di cura, trattare con i familiari e così anche come tenere sempre al centro della nostra attività quotidiana, comunque il cittadino malato che abbiamo quotidianamente nelle nostre strutture. Quindi questo seminario che ho frequentato, che ho frequentato assieme ai miei colleghi, ha avuto molteplici risvolti positivi, sia nella pratica quotidiana, perché appunto come diceva la dottoressa Misley ci ha dato anche dei piccoli suggerimenti, ma veramente utili per garantire che il gruppo di lavoro sia omogeneo, lavori in modo positivo e motivato e questo si rispecchia moltissimo nell'assistenza quotidiana. si vede quando un gruppo è motivato e lavora sentendo profondamente quello che fa, si vede la differenza. Poi nel caso vostro è ancora più necessario ed importante, insomma, perché appunto non è che avete a che fare con oggetti. Eh no! Come è stata, diciamo così, strutturato il corso di formazione? Allora, il seminario è in tre giorni, full time, quindi sono giornate intense, molto impegnative, dove fai anche delle simulazioni, simuli di gestire un gruppo di persone attorno a un tavolo, ciascuno recita anche magari la parte così della persona aggressiva, della persona a cui non va mai bene cosa fai, cosa si propone. insomma, si rappresentano le varie situazioni e viene poi analizzato com'è bene gestire queste situazioni, quindi vale tantissimo, la parte teorica ovviamente è necessaria, però la virtù, diciamo, di questo seminario sta soprattutto nelle simulazioni, nel mettersi in gioco e nel gestire, nell'imparare a gestire queste situazioni, quindi insomma, e questa è una parte più, secondo me, interessante e valida, no? Il, diciamo, le criticità che maggiormente possono essere, adesso è una domanda un po' circolare, che maggiormente potranno dunque essere affrontate alla luce del seminario, nella vita, diciamo, giornaliera, quotidiana di un, come si chiama adesso, di... Responsabilis. No, di un reparto, insomma, di un dipartimento, di una struttura. Qua è incredibile, perché le difficoltà si chiamano dipartimenti, le divisioni adesso si chiamano strutture, quindi uno fa un po' di confusione. Quali sono, diciamo così, appunto, le criticità che si possono affrontare meglio? Eh, allora, diciamo che le persone che lavorano in una struttura sono numerose, ognuno con le sue peculiarità, il modo di lavorare, varie sfaccettature, quindi le criticità è riuscire, diciamo, a coordinare tutte queste piccole sfaccettature e farle andare in una direzione, una direzione che è quella appunto dell'importanza e della centralità della persona che noi assistiamo. Questo, mi scusi, può essere, diciamo così, strutturato precedentemente? Sì. Immagino poi che tutto ciò si scontra, in senso lato, poi con quelle che possono essere le esigenze del paziente e della famiglia. Esatto. Ma non solo, anche con le esigenze, per esempio, degli orari, della struttura, dell'ospedale, eccetera. Questo seminario mi ha insegnato anche ad ascoltare le persone che lavorano con me, ascoltare le loro esigenze anche, diciamo, a livello familiare, siamo donne, siamo madri, se è possibile, diciamo, come possiamo dire, venire incontro anche a queste esigenze, cercare di rimodulare, di formulare l'orario in base a queste problematiche. Questo si ripercuote positivamente sul gruppo, sul modo di lavorare sicuramente. E questa è una criticità che si trova nel gruppo. Poi è vero che ci sono molte criticità, è vero che si scontrano ogni giorno con i familiari e con le persone assistite. Noi cerchiamo, ovviamente, di dare il meglio, di lavorare al meglio e di portare a casa grandi risultati che possono essere gratificanti per noi, ma ovviamente il risultato migliore che possiamo portare è la soddisfazione delle persone, insomma, con cui abbiamo a che fare. Sicuramente, diciamo, questi suggerimenti, queste tecniche che abbiamo imparato in questo seminario ci aiutano in questo. Dottoressa Misley, sono piccoli passi, diciamo così, questi che si stanno... Passetto, dopo passetto... Passetto per passi... Intanto la cosa più importante è che questi aspetti di tecnica, di gestione del personale, dei conflitti, eccetera, eccetera, che è il pane quotidiano dei responsabili infermieristici si incrocia anche col fatto che la maggior parte dei reparti non ha più orari d'accesso. E qui volevo arrivare a questo. Il cittadino, il familiare può entrare, è una risorsa importantissima, la prima vera grande risorsa per la guarigione, per l'abilitazione del malato e il familiare e chi gli vuole bene, no? Questo non ci piove. Quindi l'apertura dei reparti, il fatto che i miei colleghi responsabili infermieristici apprezzano adesso il fatto che il reparto è aperto, anche perché, gioco forza, si diluisce l'entrata, no? Perché se hai un orario ristretto, in quell'orario arrivano tutti, per cui alla fine si è visto che è vantaggioso anche per l'organizzazione delle attività, no? C'era quel dato molto particolare che succedeva anni fa quando questo non c'era, che l'orario di apertura del reparto era tot, poi tutti quanti, chissà come, perché avevano comunque il permesso e riuscivano comunque a entrare. Adesso è, e magari proprio per questo può anche darsi, appunto paradossalmente, che essendo più diluito l'afflusso, perché ognuno viene all'ora in cui riesce a venire, non è che ci sia meno lavoro, perché per l'amor di Dio, però è più, si affronta meglio la questione probabilmente. Se posso aggiungere una cosa, dobbiamo anche valutare sotto un altro aspetto, il familiare è una risorsa importante, è un aiuto per noi, il fatto che possa avvenire in qualsiasi orario della giornata, come dicevamo, può esserci di aiuto, per esempio nella somministrazione del pasto al suo familiare e la persona stessa che conosce, non solo la persona ricoverata e quindi sa come poterlo alimentare nel modo migliore, perché è una cosa che fa quotidianamente a casa nostra, quindi sono una risorsa e un aiuto per noi, i familiari. Si c'è da dire anche un altro aspetto, non c'è soltanto l'alimentazione, come dice la collega, c'è anche l'intrattenere un tempo che durante il ricovero è dilattato, c'è chi è ricoverato, dice Einstein provate a stare, mi pare che così me la raccontava alla facoltà di filosofia qualcuno, per spiegare la relatività provate a fare l'amore e provate con lo stesso tempo a stare col sederino su una stufa accesa, nel primo caso il tempo vola, nel secondo non passa mai, adesso non mi ricordo chi me l'aveva raccontata, me l'ha spacciata come qualcosa che spiegava Einstein agli studenti per far capire che il tempo è veramente relativo e ha una dimensione psicologica, non ha una dimensione reale e quindi chi è ricoverato ha un tempo dilattato, veramente dilattato ed è un problema dal punto di vista della sua riabilitazione e abilitazione, quindi anche il fatto che ci sia un parente vicino, un amico vicino, qualcuno che lo intrattenga, che restringa questo tempo e che anche tenga vitali altri interessi, è fondamentale, noi dobbiamo lavorare a 360 gradi su tutte le chance, le possibilità del malato, dobbiamo uscire dall'idea che si lavora su un organo, su un corpo, noi lavoriamo prima di tutto con un'anima, un pensiero, un cervello e una persona e poi arrivano tutti i suoi guai, però ecco tenere conto della complessità delle esigenze del cittadino. Se posso vedere, nello specifico proprio, il lavoro vostro con queste nuove, che sono poi semplici accorgimenti, non è una rivoluzione copernicana, quale aspetto del vostro lavoro in assoluto ha beneficiato di più di queste novità? C'è stato un aspetto particolare? Sì, assolutamente, è stato il, le spiego, per me era il mio primo incarico come responsabile infermieristico e quindi si è trattato per me di entrare in un gruppo di lavoro che non conoscevo. Allora, questi accorgimenti, queste tecniche sono state molto importanti per me per entrare nel gruppo e fare gruppo. Appunto come dicevo prima, è un gruppo buono, un gruppo che lavora. Io mi calo ogni giorno nella realtà con loro e ogni giorno assisto i pazienti, le persone che sono lì ricoverate con loro e quindi questa è stata per me una cosa fondamentale, capire che il mio ruolo non è solo lì, la burocrazia, cercare gli orari, dare degli indirizzi, quello certo è una parte, anche quella fondamentale, ma è importante calarmi nella realtà e essere una del gruppo e lavorare. Un coach, esatto, riuscire a creare un sentimento di squadra, un po' come fa un bravo allenatore, no? È più facile? Allora, chi vive al di fuori può supporre magari che ci siano delle realtà, come io dico con tutto rispetto e per l'amore di Dio, ortopedia magari è diverso da terza medica, è diverso da altre realtà, voglio dire, dove oggettivamente ci sono dei casi anche più gravi, eccetera. Da un punto di vista dell'organizzazione del lavoro è così diverso oppure fondamentalmente non lo è più di tanto? Nel senso, fatta la tara, brutto termine, della ragione per cui una persona è in ospedale. Ci sono reparti che hanno maggiore complessità, ma potremmo dire che quelli che hanno maggiore complessità e possono essere diversi dalle degenze sono i reparti di area critica, la rianimazione, la medicina d'urgenza, questi sono reparti che hanno delle loro peculiarità. Però se parliamo della degenza, che può essere l'ortopedia, come le medicine, ma anche la chirurgia generale, diciamo che la parte organizzativa, gestionale, che è quella che compete al responsabile infermieristico, francamente è abbastanza simile. Quindi avere queste tecniche comunque è bene averle in ogni caso e in ogni organizzazione perché sono un po' le fondamenta di qualsiasi casa, poi la casa la fai come la vuoi, però le fondamenta quelle sono e quelle devono essere e normalmente le fondamenta, il saper gestire le persone, la conflittualità, il creare sentimento di squadra è qualcosa che non riusciamo ancora a insegnare all'università. Noi all'università, perché all'università lo vedo, io sono un insegnante, insegno pedagogia, però non ho proprio la possibilità di riuscire con i ragazzi, anche per le poche ore che ci sono, a fare simulazioni, ad approfondire questo aspetto. E poi il ragazzo che ancora non lavora non riesce neppure ad apprezzare queste tecniche perché ancora non ha modo di usarle, viceversa, quindi quasi inevitabile che queste tecniche vengano insegnate quando uno inizia a lavorare e allora capisce l'importanza di avere dimestichezza, i trucchi del mestiere. Un po' anche come il lavoro nostro, nel senso tu puoi saper scrivere finché vuoi, però se non hai il primo giorno con la deadline deve essere pronta a quell'ora. Esatto, e quindi è qualcosa che inevitabilmente è importante che le aziende però preparino. Per questo io ho pensato a questo corso di dare precedenza alle giovani coordinatrici, responsabili infermieristiche, proprio perché come Giorgia si è trovata da poco con questo incarico ed era importante poterle dare una serie di strumenti che anche le rasserenassero, perché non è facile gestire un gruppo di quasi una ventina di persone, insomma con tutte le dinamiche, le complessità che ci sono? Io sono sempre, diciamo, incuriosito, dai che forse meglio com'è, dal doppio binario, mettiamolo così, che credo debba percorrere il suo lavoro, cioè da un lato c'è il coordinamento medico della parte clinica e sanitaria, dall'altro però immagino che c'è anche il coordinamento della parte virgolette alberghiera, e là credo che poi alla fine forse gli scontri maggiori con, forse con i familiari secondo me, più che non con il paziente, siano forse, forse, io ripeto, c'è una cosa, la racconto brevemente, ma per dar l'idea anche, mi ricordo che l'ultima volta che mio padre fu ricoverato, stette credo un paio d'ore ad aspettare il letto della stanza, in quelle due ore io ho visto gli infermieri, anche gli operatori, gli OS, andare su e giù di continuo sempre con cose da fare, quindi voglio dire, bisogna anche compenetrarsi un po' nel lavoro delle persone, e certamente che io se torno, quando quella sera poi tornando a casa avrei potuto dire d'ore che aspetta a letto, eccetera. Io invece ho visto che tutti lavoravano, che tutti lavorano, nessuno si ferma. E lo stesso discorso lo fanno anche quelli che si lamentano su Facebook, sul giornale, eccetera, per le ore di attesa del pronto soccorso, alla fine dicono sempre, medici e infermieri però non si fermano mai. Credo che questo sia la parte del vostro, paradossalmente, la parte più difficile, più criticata del vostro lavoro, è quella che riguarda più l'aspetto, mi pare che si dica, alberghiero, comunque. È vero, è vero che i familiari spesso lamentano delle lungaggini, dei tempi morti, però l'importante è da parte mia e delle persone che quotidianamente lavorano e spiegare anche, spiegare quello che sta succedendo, tutto quello che sta dietro, le difficoltà che ci possono essere e che insomma il nostro obiettivo comunque è sempre quello di far star bene la persona e che purtroppo ci sono anche dei tempi tecnici. Questo quindi è vero, quotidianamente mi trovo a dover spiegare queste cose, lo faccio volentieri perché la maggior parte delle persone comprende, appunto perché vede che lavoriamo continuamente. L'idea di spiegare è quella, io sono stato ricoverato tempo fa e mi stupivo che tutti quanti mi spiegassero quello che mi stavano. Ma è bene questo, è un bel feedback questo. Si, dovevo leggere per dire la verità, io sono la leggera, adesso facciamo questo, ma beh, però poi dopo ho capito che c'è una necessità molto seria dietro a questa cosa. Sì, sì, una volta che si comprende questo credo che si possa accettare qualcosa. In meno di un minuto, dottoressa Misley, alla luce di tutto ciò, il processo si può considerare concluso? No, abbiamo ancora due edizioni, però non basta perché con il professor Canali della Sissa, con Stefano Canali, abbiamo in cantiere la progettazione di altre forme di aggiornamento del personale, sempre dei ruoli gestionali come la collega, come Giorgia, e lui ci preparerà su il colloquio motivante, che non riguarda solo il nostro malato, noi dobbiamo essere capaci e abili nel rendere motivante il nostro malato per esempio nella gestione della terapia. Ah, ho capito, ho capito. Ma c'è anche un colloquio utile e motivante nei confronti del nostro collaboratore, di chi collabora con noi, ma non solo, a volte anche nei confronti del caregiver. Cioè acquisire la tecnica di come si motivano le persone, che questi siano i nostri malati, il cittadino sano, il caregiver o un nostro collaboratore, è tecnica importante da avere per i ruoli gestionali. Quindi andiamo avanti a implementare queste nostre capacità e più delle volte si tratta appunto di tecniche che è necessario acquisire e anche di una parte, così come posso dire, teorica che ci aiuta a comprendere meglio le dinamiche. Perfetto, allora io ringrazio la dottoressa Mayla Mis, la prossima volta la chiamerò Mayla. Ma bravissimo, ma grazie, ma sarà meglio, io potrò chiamarti un verso la prossima volta. Ah, allora. Perché se no veramente ogni volta devo pensare a dove va l'accento. Che è la direttrice infermeristica dell'Aswitz e la dottoressa Giorgia Toso, responsabile infermeristico del reparto di terza medica. Star Bene TV torna il giorno 9, credo alle 11 di mattina, sempre con la dottoressa Misley e Maida Canziani che è una volontaria per parlare del progetto volontario articolo 13. Grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti, ci vediamo la prossima settimana. Bene. Grazie. Grazie a tutti.